minasan konnichiwa giapponese con miru e yokoso ciao a tutti e benvenuti su giapponese con miru questa sarà una piccola lezione di vocabolario che utilizzerò anche per approfondire un tipo di approccio ai kanji di cui abbiamo già parlato in precedenza iniziamo imparando un kanji nuovo si tratta di questo kanji che è in tutto e per tutto identico alla e del katakana e si scrive esattamente allo stesso modo si legge ko e significa tecnica lavoro manuale ingegno pratico secondo gli studiosi deriva da un pittogramma che significa scalpello o comunque utensile strumento per costruire qualcosa adesso lo scrivo molto velocemente però è ovvia la sua scrittura lo faccio al volo 123 123 co ingegno pratico adesso rispolveriamo un vecchio kanji che abbiamo studiato in passato questo kanji è il kanji di ba che si può anche leggere jo ed è il kanji che compare nella parola che abbiamo già studiato la parola hiroba piazza questo kanji da solo significa posto adibito specifico per un determinato scopo deriva da questo pittogramma dove riconosciamo tre elementi vediamo questa parte in verde che sembra rappresentare della terra che è stata utilizzata a formare a plasmare una colonna come un altare per dei riti di divinazione vediamo poi il sole sorgere sulla linea dell'orizzonte quindi terra lavorata e il sole che sorge all'orizzonte questo è il kanji che viene utilizzato per descrivere il concetto di luogo specifico adibito a una determinata cosa anche se l'abbiamo già studiato lo riscriviamo insieme non è un kanji difficile è un kanji a 12 tratti forse dobbiamo prendere confidenza con questa ultima parte allora innanzitutto iniziamo facendo la terra sul lato sinistro il kanji di terra sul lato sinistro dove il terzo tratto lo facciamo dal basso verso l'alto in questa in obliquo per farcelo entrare poi facciamo il sole e poi infine facciamo la linea dell'orizzonte che si fa in questo modo uno due tre con il gancetto quattro cinque non mi è venuto molto bene provo a rifarlo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici ba di hiroba ma si può anche leggere jo ora passiamo al vocabolario in questa lezione ho pensato di darvi queste tre parole utilizzando i kanji che abbiamo studiato in questa lezione e alcuni kanji che abbiamo studiato in passato la prima parola che vediamo è la parola kojo kojo che significa luogo adibito ai lavori manuali fabbrica kojo la seconda parola è ko-ga-ku ko-ga-ku apprendimento dell'ingegno tecnico ingegneria ko-ga-ku infine impariamo anche la parola ko-ji-chu ko-ji-chu è la parola più lunga fatta di tre kanji forse un po' difficile da pronunciare ko-ji-chu significa lavori manuali il fatto dei lavori manuali chu che significa nel mentre in esecuzione ko-ji-chu significa lavori in corso lavori in esecuzione ko-ji sono i lavori chu è il mentre siamo nel mentre dei lavori che stanno accadendo ko-ji-chu questa è una parola che si trova per esempio nei pressi dei cantieri oppure quando ci sono dei lavori in corso per esempio per le strade ko-ji-chu è una parola semplice che appartiene al vocabolario quotidiano e io vi invito ad impalarla perché qui è la prima volta che vediamo il kanji di chu di naka che esprime il significato di in esecuzione nel mentre temporale e finiamo questa lezione parlando di questo approccio ai kanji di cui vi dicevo a inizio video io sicuramente in passato vi ho accennato che all'interno di kanji con un alto numero di tratti quindi dei kanji molto complessi possono essere presenti degli altri kanji che ci danno un indizio su come si può pronunciare questo kanji così complesso quindi un kanji più piccolo che contiene l'informazione fonetica la pronuncia e visto che noi oggi abbiamo imparato questo kanji e sappiamo che questo kanji si legge ko adesso noi a prescindere dal significato di questi kanji che io ho scritto qui e che non voglio che voi trascriviate sul quaderno non è importante ma mi interessa solo che ricordiate che visto che questo kanji si legge ko vedendo questi quattro kanji appunto di cui non è importante sapere il significato riconosciamo che il kanji di ko è presente all'interno di questi kanji allora possiamo ipotizzare che anche questi kanji si leggano ko infatti questi quattro kanji si leggono esattamente ko, ko, ko e ko e all'interno di questo kanji il kanji di ko che abbiamo studiato oggi ci aiuta proprio nella pronuncia per ora sicuramente per noi è difficile saper ricavare una pronuncia di un kanji semplicemente guardandolo perché serve effettivamente molta confidenza ma mano a mano studiando bene i kanji e conoscendo le letture onyomi di questi kanji bene queste letture possono essere utili anche per saper dedurre come si possono leggere dei kanji totalmente nuovi mai visti come per esempio questi qua ko, 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 ko e con questo è tutto grazie per aver visto il video fin qui io mi auguro che la lezione vi sia piaciuta in tal caso vi invito a mettere un pollice up a fare l'iscrizione al canale e anche a venirmi a trovare sul gruppo facebook di Giapponese Komiru ci vediamo nella prossima lezione già, matane!